L'indagine della Guardia di Finanza di Venezia era scattata dopo una querela presentata alla caserma di Piazza Barche a Mestre. Un cucciolo di razza Yorkshire Toy, comprato attraverso un annuncio pubblicato su un noto portale internet, era morto pochi giorni dopo l'acquisto. A differenza di quanto scritto nell'inserzione, il cucciolo era sprovvisto del microchip identificativo e non era stato sottoposto alla profilassi sanitaria obbligatoria. Le indagini dei finanzieri hanno portato al venditore un italiano residente a Bolzano e del rumeno residente a Padova che materialmente aveva consegnato il cucciolo assieme ad un libretto sanitario palesemente contraffatto sui vaccini somministrati con tanto di timbro e firma di un sedicente veterinario. Nella perquisizione dell'abitazione di quest'ultimo le fiamme gialle hanno trovato all'interno di una piccola baracca in spazi angusti e condizioni igieniche inadeguate dieci cuccioli per i quali l'uomo non ha saputo fornire i documenti di provenienza. Due Yorkshire, quattro barboninani, tre maltesi e un bulldog francese, tutti tra i 45 e gli 80 giorni di vita, tutti pronti ad essere venduti a prezzi che potevano raggiungere i 500 euro ad esemplare. I cuccioli, ricoverati al canile sanitario dell'Ulss 6 di Padova, sono ora in buone condizioni. I due responsabili sono stati denunciati per truffa e maltrattamenti di animali.